Rivendevano auto dopo aver cambiato il numero di targa e il colore, sono finiti in manette. L'operazione, volta a contrastare il traffico internazionale di auto rubate, è stata condotta dai carabinieri di Torre Annunziata. I militari, coordinati dal capitano Luca Toti, a seguito di una telefonata che segnalava la presenza di un'autocarruzzeria con all'interno autovetture di illecita provenienza in via Nolana a Pompei, alla periferia della città, hanno tratto in arresto tre persone e messo sotto sequestro la carrozzeria dove veniva contraffatto il telaio. Si tratta di Francesco Di Casola, classe 82, residente a Pompei. Antonio Di Casola, nato nel 1953, padre di Francesco. Domenico Pirozzi, del 1972, di Pompei. I carabinieri hanno sorpreso i tre mentre contraffacevano il telaio di un Audi A4 intestata ad una persona residente a Bologna e il cui furto era stato denunciato il 12 dicembre scorso e di una BMW Serie 1 intestata ad una persona di Ladispoli, in provincia di Roma, e rubata sempre a dicembre. Durante le operazioni di perquisizione, inoltre, sono stati rinvenuti e sequestrati quattro fucili e 808 cartucce di vario calibro, intestate a Antonio Di Casola. Espletate le formalità di rito, gli arrestati sono stati tradotti presso il carcere di Poggio Reale a Napoli, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Grazie.